Attesa a Teramo per l'ok da parte del Tribunale di Roma che dovrà dare il via libera alle risorse che occorrono per l'iscrizione al prossimo campionato. L'anticipo delle sponsorizzazioni da parte dell'imprenditoria locale è un segnale oltre che un passaggio fondamentale per avere la liquidità necessaria a saldare quanto dovuto ai giocatori e allo staff tecnico che hanno conquistato la salvezza sul campo. Aprile e maggio sono i mesi da saldare entro domani, stamattina saranno ore frenetiche alla ricerca del semaforo verde da parte del foro Capitolino anche se pare che i pagamenti siano già in corso di effettuazione e questa è una novità sostanziale nel mosaico complessivo. Non è aspetto secondario ma è evidente che non basta senza il sussidio che può arrivare a stretto giro. Poi sarà corsa contro il tempo perché l'intoppo della giornata di ieri era derivato dal fatto che la società della famiglia Ciaccia individuata per il trasferimento di una parte dei fondi sbloccati facesse comunque riferimento ad entrambi i fratelli e il solo assenso di Davide non poteva essere sufficiente alla buona riuscita dell'operazione. Mancava quello di Mario e non è arrivato in tempo per poter sbrigare alcune pratiche già nella giornata. Ecco per quale motivo oggi serve assolutamente sbrogliare la matassa. Nella serata di ieri dopo l'iniziale sconforto per l'inatteso stop si è aperta una finestra di lavoro ovvero prendere una strada differente e uscire dallo stallo. L'idea, divenuta poi ipotesi concreta, potrebbe essere percorsa. Le tempistiche sono ridottissime, molto a dir la verità, è già pronto ma mancano dei tasselli che sono fondamentali alla presentazione della domanda di iscrizione. La questione che riguardava la fideiussione è già stata risolta ed è un punto di partenza fondante per il futuro di una squadra che è ancora appesa ad un filo ma che potrebbe, con l'avallo di alcune operazioni che potrebbero essere ufficiose se non ufficiali questa mattina, mettere tutti i tasselli insieme. Anche perché di tempo non ce n'è più molto. Quello che verrà dopo, allo stato attuale, importa relativamente. La priorità è esserci, solo successivamente si vedrà con quali giocatori e con quale staff tecnico.